In questo video vediamo le 5 migliori lavatrici sotto i 300 euro in vendita online. Prima di iniziare con il video ti ricordo che trovi tutti i link ad Amazon sotto al video in descrizione o nel primo commento. Iniziamo. Numero 5. Al quinto posto troviamo Samsung. La tecnologia ecolavaggio assicura un bucato perfetto, anche a basse temperature. Il detergente viene trasformato in bolle, che penetrano rapidamente nei tessuti e rimuovono facilmente lo sporco, proteggendo i materiali e risparmiando energia. Il motore Digital Inverter sfrutta dei solidi magneti che consentono di ottenere i risultati desiderati in maniera più silenziosa ed efficace, consumando meno energia rispetto al motore tradizionale. Il prezzo è di 299 euro. Numero 4. Al quarto posto troviamo Indesit. Lavatrice a carica frontale Indesit a libera installazione da 6 kg con 18 programmi di lavaggio e 7 opzioni. Con Water Balance Plus, il sensore permette di ottimizzare il consumo di acqua assicurando l'utilizzo della quantità necessaria in base al carico inserito e motore universale. Il prezzo è di 236 euro. Prima di passare al prodotto numero 3 iscriviti a prezzo e recensioni per non perdere le migliori offerte del web in anteprima. Numero 3. Al terzo posto troviamo Hotpoint. Grazie alla sua capacità di variare la velocità di rotazione è più efficiente nel controllo della pressione dell'acqua e migliora la silenziosità. Un'opzione speciale per l'igiene del tuo bucato. Il vapore viene immesso nel cestello per rimuovere fino al 99,9% dei batteri più comuni senza additivi chimici. Il prezzo è di 267 euro. Numero 2. Al secondo posto troviamo Candy. Lascia che Candy ti aiuti quotidianamente con una lavabiancheria che lava i tuoi indumenti facilmente e in maniera smart, i risultati saranno fantastici. Conforte e facilità d'uso, mai più sforzi eccessivi e perdite di tempo, energia e denaro. La lavabiancheria Candy Smart è anche connessa, ottieni benefici dalla connettività NFC che ti aiuta a migliorare la tua esperienza di lavaggio, semplicemente e direttamente dal tuo smartphone. Numero 1. Al primo posto troviamo Electrolux. La lavatrice compatta PerfectCare 600 con sistema SensiCare regola la durata del programma a seconda delle dimensioni del carico, usando meno energia e acqua ed evitando lavaggi troppo lunghi. In questo modo è possibile effettuare un ciclo economico anche con i carichi più piccoli. Il design compatto permette di risparmiare spazio senza scendere a compromessi in capacità o cura dei capi. Il prezzo è di 291 euro. E tu quale comprerai? Faccelo sapere con un commento. Trovi tutti i link ad Amazon sotto al video in descrizione o nel primo commento. Lo staff di Prezzo e Recensioni ti ringrazia per la visione.